Il mio nome è Gianluca Di Buo e sono responsabile di IDEA. IDEA è un ex spin-off universitario che ha, sia dalla sua genesi, l'obiettivo di portare innovazione nelle aziende marchigiane. In quale modo? Caratterizzandosi come ponte tra il mondo della ricerca, quello universitario più in generale della ricerca in assoluto, e le aziende che hanno bisogno di innovare, cioè di portare innovazione e nuove soluzioni all'interno dei processi produttivi. Questo è un po' il nostro target e il nostro obiettivo, la nostra mission, se vogliamo. Mi sono sempre basato su un detto che dice che da soli si va molto veloci, ma insieme si va più lontani. E quindi credo che la partecipazione a un'associazione di categoria importante, come quella di CNA, mi possa permettere di esprimere quelli che sono i miei obiettivi in termini comunitari, quindi poter essere parte di un sistema più ampio che condivide obiettivi e anche problematiche e soluzioni alle stesse. Quindi CNA per noi è una casa di risonanza per poter far bene il nostro lavoro a servizio del territorio.